Salve a tutti amici, in questo video vorrei parlare dei supporti per salvare i nostri dati, quelli più usati, eccole qua abbiamo i quattro più usati Partiamo subito dal vecchio sistema, il cd o dvd, diciamo anche blu-ray Allora, vantaggi e svantaggi Prima di tutto qua ho un vecchio cd da 700 megabyte Ho un cd, tanto per farvi ricordare che una volta si usavano questi Il vantaggio è sicuramente che sono molto 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 economici Ovviamente consiglio un dvd rispetto a un cd, a meno che voi non dobbiate masterizzare poche cose entro 700 megabyte oppure ovviamente un cd musicale Ma diciamo subito, lo svantaggio è quello che ci potete scrivere una volta sola Oppure comprando un riscrivibile ci potrete scrivere quante volte volete Però servirà un masterizzatore, talvolta avete bisogno, soprattutto nell'era moderna, di passare dei dati tra cellulari, tra portatili, in netbook E sappiamo che ormai in netbook piccoli portatili non hanno i lettori cd Quindi, e poi non è neanche comodo portarsi una cosa così grossa dietro Quindi, ormai direi che l'era del cd e dvd è tramontata Escluderei a priori questo supporto, mandiamolo via SD, micro sd e mini sd Sono tre supporti molto interessanti Allora, diciamo subito che le sd possono essere di classe diversa Questa è la migliore, la classe 10, quella consigliata Poiché nelle reflex, nelle videocamere, laddove bisogna registrare dei dati velocemente e continuamente Serve una velocità maggiore possibile La classe 10 vi garantisce la miglior velocità Quindi costano un po' di più, ma ne vale la pena Allora, partiamo dagli svantaggi questa volta Gli svantaggi sono un po' i costi Poiché non sono proprio economiche, soprattutto le ultime veloci Sicuramente è più economico magari comprare una chiavetta usb Però, soprattutto se comprate la micro sd Che consiglio assolutamente molto di più di un sd Potrete interfacciarla da tutte le parti Perché? La maggior parte dei cellulari moderni adesso ha uno slot micro sd Quindi potrete interfacciare tutti i vari dispositivi con la micro sd Ci sono le sd che hanno l'adattatore per le micro sd Quindi potrete inserire la micro sd dentro un adattatore E metterlo, che so, nello slot di un portatile Oppure in un adattatore a micro sd o sd Che si inserisce nel computer Quello che ho adesso io nella scrivania È un blocco così, con delle fessure Ci inserite dentro la sd E poi le collegate usb al computer Quindi un supporto sicuramente del futuro Da tenere in considerazione I vantaggi sono anche, vedete, l'assenza di parti meccaniche Quindi è sicuramente molto più affidabile Non ne ho mai visto uno rompersi Quindi al limite pulite i contatti A meno che voi non compriate quelle proprio tarocche Vi consiglio sempre marche buone di sd Non avrete mai problemi Passiamo adesso alla chiavetta usb Credo che sia ultimamente quella più usata di tutte I vantaggi sono sicuramente Che sono molto comode, piccole Anche se non piccole quanto un sd Ma assolutamente tascabili Sono sempre più capienti Sempre di più Questa è da 32 gigabyte E sono abbastanza economiche Si trovano da tutti i tipi Da tutte le grandezze Da tutti i prezzi Quindi fa sempre comodo avere una bella chiavetta usb Ovviamente Questa va bene per i computer I portatili Ma non vanno bene per i cellulari Poiché cellulare e tablet Ancora non hanno la porta usb A meno che voi non compriate un adattatore Per alcuni tablet Come ho io Che vi permette di inserire la usb Ma attenzione Poiché i tablet sono quasi tutti android O apple Dovete stare attenti che il formato Della chiavetta non sia ntfs Va riformattato sotto fat32 Che è un tipo di file system Che legge anche lo unix Quindi il sistema che usa android e apple Mentre l'ntfs viene letto solo da windows E linux su computer Quindi ubuntu E sistemi operativi linux Su portatile e computer Ricordatevi quindi per tablet e cellulari Queste qui vanno formattate in fat32 Beh lo svantaggio Diciamo che non ci sono svantaggi Può essere scritta quante volte volete L'unico svantaggio può essere che Se dovete scrivere una sola volta 4GB Vi comprate un dv di vuoto e lo scrivete Costa sicuramente meno che comprarsi una chiavetta Passiamo adesso al miglior supporto di tutti L'hard disk esterno Questo addirittura è autoalimentato Vedete non ha bisogno di alimentazione esterna Questo è un vantaggio Poiché almeno non dovete stare ad attaccarlo anche alla corrente Vedete quasi tutti si alimentano via micro usb a usb Sono estremamente capienti Li trovate da tutte le dimensioni Arriviamo fino a 2TB E anche se il costo potrebbe sembrare elevato In realtà non lo è Perché se paragonate il costo di 32GB a 2TB Capite anche voi che non ha senso Da un momento che i 2TB a questo punto si trovano anche sui 100€ Voi fate caso che 32GB per una chiavetta sono 30€ Sicuramente non arrivate con questi costi a fare il 2TB Quindi se volete mettere sempre più dati assolutamente prendetevi l'hard disk più capiente che c'è Poiché qui vale la regola del più spendo meno spendo Ovvero più capiente è meno spendete Ovvero costa di più comprare due hard disk da 1TB Che comprarne uno solo da 2 Quindi mettetevi subito l'animo in pace Comprate quello più grande di tutti Se sapete che andrete a metterci sempre più roba E siete a posto Quindi questi hard disk sono consigliati per tenere tutti i dati personali Tutta la musica, i film, tutto quello che volete tenerci E sono abbastanza portatili Vedete sono della grandezza di una mano Quindi si mettono in tasca, si portano in una borsetta Quindi io promuoverei assolutamente gli hard disk portatili Anche perché c'è da distinguere tra hard disk meccanici come questo Che comunque anche se sembra fino a comunque una parte meccanica E gli hard disk completamente digitali Gli SSD che sono ancora meglio ma hanno dei costi ancora elevatissimi Quindi li sconsiglio ancora Oltretutto non arrivano a 500GB Che costano di più che di 1TB di un hard disk meccanico Quindi per ora direi di continuare a comprare questi meccanici Si trovano da tutti i prezzi, da tutte le marche Comunque prendetevi una buona marca, non prendete quello peggiore di tutti E non avete problemi per lo storage dei vostri dati Bene, questo video è finito Spero di avervi reso un po' le idee chiare Ci vediamo al prossimo video